E dalla maglia gialla del Tour de France a quella storica gloriosa di Modena Volley che da domani comincia un nuovo capitolo di storia con Giulia Gabanno, ormai ex socia di minoranza di Katia Pedrini, pronta a prendere il comando del club. Tutte le novità sull'assetto societario verranno illustrate in una conferenza stampa in programma domani pomeriggio alle 15 al Palapanini. Intanto il futuro di Modena Volley nel servizio di Filippo Marelli. Sentiamo. Si ripartirà da Giulia Gabanna al timone della società e con ogni probabilità da Andrea Gianni in panchina, Capitano Bruno ed Erwin Gappet in campo. Dopo settimane di trattative e di lavoro dietro le quinte, il futuro di Modena Volley sembra scritto e verrà annunciato in una conferenza stampa giovedì pomeriggio. Giulia Gabanna, dopo cinque anni da vicepresidente del club con una quota minoritaria sempre al fianco di Katia Pedrini, ha di fatto rilevato Modena Volley dalla proprietà dell'attuale presidentessa. Ancora da chiarire il ruolo di Giuseppe Vinci, l'imprenditore lombardo che inizialmente sembrava voler acquistare Modena Volley e che dopo il dietro fronte della scorsa settimana pare ora rientrato nell'operazione a supporto della Gabanna. Giulia Gabanna è una grande appassionata di volley, cresciuta con la pallavolo in casa, figlia di Marcello Gabanna, scomparso nel 2009, storico presidente della Gabecca Montichiari, che tra gli anni 90 e i primi del 2000 è stata una delle realtà più interessanti del volley italiano prima che il titolo venisse ceduto a Monza. Naturalmente nulla è ancora ufficiale, la conferenza stampa servirà proprio a capire tutto ciò che in queste settimane è stato solo ipotizzato. La strada sarà tendenzialmente quella della continuità, visto che la Gabanna conosce bene la società, la squadra e l'ambiente modenese. L'eventuale presenza di Vinci, anche lui uomo di volley e anche di esperienze nel mondo degli sport americani, potrebbe portare alcune novità. L'idea della proprietà è quella di allestire una squadra di qualità, ripartendo da Gianni in panchina e dalla coppia Bruno Ngape sul parquet. Altro punto di ripartenza, il giovane schiacciatore Tommaso Rinaldi, che rientrerà dal prestito a Cisterna. Poi probabile la conferma dei centrali Mazzone e Stankovic. Difficile per costi quella invece di Leal, anche se potrebbe essere proprio lo schiacciatore brasiliano l'opposto che Modena si ritroverebbe senza dover ricorrere al mercato.